Buon momento del Rivignano, clamorosa occasione per gli ospiti, grandiosa invece la parata, parata imperiale di Cicuti, salva tutto, anche il pallone deviato da un difensore, bellissima questa parata di Cicuti che salva la porta del San Daniele. Viene respinto da Tessarini sulla testa di Morsut, pronto a battere a rete, ma è felino il numero uno della Torre Anese a rialzarsi e sventare la minaccia al 44esimo direttamente da calcio di punizione di Giolo che esalta ancora una volta le doti atletiche di Tessarini. Nel secondo tempo, staffilata di Biono dal limite indirizzata all'incrocio, ma Orsari è strepitoso ed in tuffo devia la palla in calcio d'angolo.